poi su campioni, ing e vediti la leadership tutta quanta che numero 28 ma ma c'è padre eterno nella lead va bene per la terza volta ne abbiamo registrate già 74 però... finire molto male siamo al mercato del pesce se siete dei giocatori di call of duty non giocate ai giochi che non sono call of duty perchè tanto non siete capaci teste di cazzo, avete capito? quello è un gioco di merda, quello non è un multiplayer stronzi sono stato abbastanza chiaro secondo te proprio così, molto molto chiaro nessuno si è offeso come tutti sapranno ormai questo gioco è un clone di vari giochi tra cui overwatch, smite e giochi del genere anche un po' dirty bomb e niente ma noi non ci frega, è gratis e bello gratis e bello io ho overwatch e mi sta rovinando la media questo gioco perchè una volta che ti abituvi poi fai le figure di merda su overwatch e niente, ci sono i set di carte questo qua è quello basic che ti da il gioco io mi son fatto il personalizzato che si chiama lo spaccaculi set bellissimo sono due abilità passive sono sempre attive tutte selezioni le carte e sono sempre attive poi ci sono gli oggetti da acquistare man mano che si fanno punti come tipo league of legend e ce ne sono di varie categorie quelli da difesa, quelli di utilità, quelli di cura e quelli di offesa se siete gente del ghetto, offendete la gente e io inizierei con ruba vita perchè sono tank e faccio l'uomo la vita l'hai finita di sculettarmi davanti? aspetta che sculetto di così aspetta guarda fa il 360 eeeh è bellissimo andiamo a vincere il gioco amico, andiamo ma è morto qualcuno qui, è caduto aia mi sono spaventato e sto già morendo ottimo perchè qua i figli di tu, i pezzi miei, si mettono qua sotto aia 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 niente ah, mi ha trovato nooo porca vacca ma tutti quanti senza vita che l'attacco frega niente prego l'obiettivo vinco il gioco aspetta aspetta vai 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 attacca 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 dove dove sopra 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 degli scatoli ho visto a rotolare ce n'è un'altra a destra troppa gente ho ucciso qualcuno come non stavo neanche sparando curati il passotto ma guarda per chi non vengono all'obiettivo aia che ci mettiamo meno che a prenderlo se venite tutti eccoli eccoli sono rallentato chi ha fatto la doppia? chi ha fatto la doppia? chi? io bravo aia aia muori oh ho fatto la provata sono bravo dai 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 lo porto io il carretto amici sei tu che porti tutto ma l'ho ammazzata è quello? è morto ah vabbè vuole upare il figo buon il figo? le morti oh siamo bravi amici guardate la mia ultra terminator demolitore di di pro we are strong together abbiamo pushato bene siamo bravi pusher sono un po male, però... va bene così come potete vedere, ammazzando gente si fanno punti e voi potete comprarvi gli oggetti io adesso prenderei un po' di attacco fisico e un po' di difesa, che non fa mai male e finisci di fissarmi? faccio cose... ma... guardami il culo adesso, guardamelo il tuo o quello del cavallo? quello del cavallo! andiamo da dietro metto l'esca, metto l'esca... e la faccio esplodere! si pensano che io sono l'esca, capito? quindi l'esca funge da esca! attenzione a destra! da dietro, altro che a destra! ma se la sta avvenendo qui? eh, ho capito, però se nessuno fa niente... la pacchia boia! se la sta avvenendo tantissimo! stanno tutti e tre qua dietro! ah, l'ho ucciso! davanti davanti! ma grazie! il cretino qua sopra! il cretino! sulla balconetta! curami! ecco qua! sono morto, ottimo! ora direi di prendermi l'abilità che mi fa caricare più velocemente le skins no? no? ho sentito un rumore brutto! eh sì, maronne! queste sono partite bilanciate! perché le vincevamo! maronne, massacune però! eh, niente, abbiamo vinto con una facilità incredibile! vittoria! vittoria! siamo bravi! mamma mia! mamma mia! mamma mario, quanto siamo bravi! ho fatto tre ori, un argento e un brunzo! va bene! amici, questo era paladins! se non potete permettervi overwatch, scherzi a parte, e volete giocare a qualcosa di simile che prenda nello stesso modo, noi ve lo straconsigliamo, vero? giocatelo perché GRATIS! e gratis è già un punto a favore! poi se devo essere sincero... no, 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 aspetta, 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 aspetta! solo perché è gratis lo devono giocare! ah, ok! se devo essere sincero... mi fai parlare? che cazzo? ma allora! se devo essere sincero, è molto più diretto di overwatch, è più immediato, molto più action è gratis? è più un action rpg piuttosto che un MOBA quindi... è GRATIS?! hai rotto il cazzo! è GRATIS! è GRATIS e niente! ci vediamo ad un prossimo video di paladins, perché ce ne saranno altri sicuramente! GRATIS! sempre GRATIS! no, sono a pagamento, se volete per nulla ti cacciare i soldi! oh! soldi GRATIS?! esatto! ok! se volete aggiungeteci, io sono Spremiagrumi e il mio collega è Collu di Costanzo, come potete vedere qui! grazie per aver seguito questo video e ad un prossimo video! GRATIS! 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 GRATIS!